Ho l'onore di annunciare che la conferenza dei presidenti dei gruppi politici ha appena deciso di attribuire il premio Sakharov 2017 per la libertà di pensiero all'opposizione democratica in Venezuela. All'Assemblea nazionale rappresentata dal suo presidente Julio Borges e a tutti i prigionieri politici, così come elencati dal foro penale venezuelano e rappresentati da Leopoldo Lopez, Antonio Ledesma, Daniel Sebaios, Jon Goicocea, Lorenz Salé, Alfredo Ramos e Andrea González. Al prossimo episodio Grazie a tutti.